eccoci qua ragazzi podcast del bartender siamo al roma bar show questo nuovo episodio abbiamo un ospite che rincorrono da un anno come stai bene grazie tu come stai io benone per fortuna bene allora prima cosa ti faccio subito un appunto che allora l'anello di congiunzione tra noi due inizialmente è stato il grande Federico Cassini che è il talent scout del podcast del bartender che mi ha consigliato tantissimi ospiti e oltre a questo una cosa che ho rimpianto tanto dalla mixology experience che però non so perché ci sono ci ho pensato ci ho pensato proprio quando non ho più avuto la possibilità di farlo lo speed round la prossima volta lo farai la prossima volta lo faccio sicuramente ti incastro sì no no non c'è proprio la prossima volta lo faccio di sicuro perché è stato veramente per me cioè mi ha fatto tanto pensare nel podcast non so se sono già usciti gli episodi in cui ne parlo perché ne ho registrati tantissimi però veramente è stato per me fonte di grande pensiero vederlo capito nel senso che ne ho già parlato in altri episodi io quello speed round non so chi l'ha pensato però è stato pensato comunque in un modo per fare drink per fare quel tipo cos'erano 5 o 6? 5 cocktail è un soft drink servito in perfect serve è un soft drink però erano drink che ti mettevano in una posizione di poterli fare molto velocemente sì sì sono stati pensati apposta perché poi fondamentalmente sono i cocktail che vengono più richiesti dai clienti parliamo di un necroni un all fashion di un daikiri un margarita gin and tonic sì e infatti la mia testa da flair bartender o da bartender che ha iniziato a fare questo mestiere nei 2010 2011 è stata quella di ho pensato subito al tempo che ci avrei messo a farlo ok e qual era questo tempo un minuto ammazza anno prossimo di per forza farla io ti dico a parte a parte la parte del vassoio dove devo portare se non ci fosse quella ti dico un minuto sono sicuro di farcela perché mi ricordo che pensateci dico i primi tre quelli in 10 secondi dei fatti sì è vero capito l'unica parte che mi tenevo alla fine era il daikiri sì 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 ciao un minuto ciao sì 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 quello nella mia testa poi non lo so però vedendo questo speed round ovviamente c'è la c'è la la parte dell'emozione perché sei nella fiera perché sai che ti stanno guardando bartender cose varie però visto tanti ragazzi proprio ragionare un drink alla volta sì 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 questa è una problematica che purtroppo penso che alcuni ragazzi hanno ma perché perché magari non costruiscono questo genere di drink o questi drink semplici in velocità perché magari lavorano in locali dove lavoro è molto easy e leggero quando lavori magari in cocktail bar ha i volume pesanti non hai tempo di pensare devi agire sembra strano dirlo però è così sembra facile anzi a dirlo però è così e quante volte capita che ti chiedono in contemporanea un negroni un daikiri un margarita un gin and tonic e un old fashion cioè quante volte è capitata a me questa comanda centinaia di volte man mano che la fai prendi dimestichezza e trovi sempre un modo di farla con un movimento in meno con due movimenti in meno tre movimenti meno meno movimenti fai naturalmente più tempo recuperi ma questo però non vuol dire in questo caso nella speed and taste challenge non vuol dire che se fai meno movimenti il drink viene bene quindi devi essere anche molto bravo a servire poi questi cocktail che siano miscelati nel miglior modo possibile di base io metto comunque di base che il drink è bene buono fatto certo non è non è facile nuove generazioni un pochino hanno perso questo perché non hanno fatto secondo me anche un po la cavetta in discoteca da qui io ho fatto molte volte questa domanda perché ho visto quello poi ho pensato alla discoteca perché dico quando iniziato io nel 2010 fa il corso discoteca sì 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 perché ti fa le ossa capito però sembra la partenza era sempre la discoteca adesso invece magari capita che che parte ma si può aprire questa sì sì allora me lo faccio che parti e partendo da subito ma anche il il bartender con il bartender moderno di oggi domanda che ho fatto domanda che sto facendo sempre che proprio questo speed round mi ha fatto venire è che quando hai iniziato come facevo a sopperire alla grande richiesta imparavo tecniche nuove certo di preparazione ma anche la stessa speed rack la metti in modo che ti fa fare meno movimenti possibile idem il bancone bar c'è la cosiddetta mise in plus del il bancone deve essere fatta che se fai i cocktail in eyeball oggi vengono chiamati eyeball sai che bicchieri li devi avere a sinistra o a destra quindi tu già sai quando di giri li trovi lì che a volte neanche di giri più fai direttamente così lo prendi e lo poggi stessa cosa se vale nel discorso dei medium drink che possono essere esempio negroni o l'old fashion del no sai nel tumblerino basso o l'old fashion glass stessa cosa magari ce l'hai di qua quindi tu devi crearti una routine che man mano farai con talmente tanta dimestichezza che noi la chiamiamo in gergo sprezzatura che sono quei movimenti che il bartender fa che diventano talmente tanto naturali nel suo fare il proprio lavoro che agli occhi del cliente sembra che sia facile stessa cosa il discorso nel mondo del della speed and taste devi fare dei movimenti talmente tanto veloci e spontanei che a un certo punto i drink sono preparati tu neanche te ne sei accorto questo è un po questa parte qua di cui parte di cui parli è la parte di cui mi trovo spesso a parlare del fatto della non lo dico con presunzione però lo dico perché mi capita mi è capitato spesso di persone che mi fanno i complimenti mentre lavoro a me o a miei colleghi i momenti in cui non facciamo flair i momenti in cui stiamo macinando è bellissimo vedervi lavorare così stiamo soltanto facendo da bene però ci muoviamo come mi ha detto ma perché ti muovi anche perché poi a un certo punto quel movimento non è più meccanico ma è fluido e questa cosa fluido fluida riportata nel mondo dei drink ma come in qualsiasi altro lavoro anche il pizzaiolo che ti gira la pizza che il movimento lo fa talmente tante volte che a un certo punto gli viene naturale e quando lo vedi dici ammazza che bello però vederlo lavorare questa è una cosa che puoi prendere solo ed esclusivamente con gli anni o con la dedizione soprattutto il consiglio che io magari posso dare che poi alla fine non è che posso dare grandi consigli non è che ho fatto chissà che cosa nella mia vita nel mondo del lavoro è che soprattutto nei momenti morti nel proprio locale devi fare quei movimenti sempre meglio sempre meglio soprattutto quando c'è il periodo morto quindi a volte lo sai che c'è il bartender che fa quando non c'è lavoro al locale si annoia e quindi diventa sbogliata invece se tu in quel momento ti crei una routine di lavoro sempre più pulita quando ci sarà l'amore di lavoro pesante ti viene spontaneo farlo non so se mi sono capisco benissimo quindi devi dare molto di più quando ci sono i momenti morti che quando ci sono invece i momenti in cui devi spingere perché poi il movimento è automatico perché poi in tanti locali questa è una cosa di cui secondo me si parla troppo poco e spesso all'interno all'interno di un locale il momento in cui bisogna veramente tanto spingere e il momento in cui si fa il cassetto del locale è una è una finestra molto piccola capito la maggior parte del tempo non dico che sei lì a fare niente però fa parte di preparazioni preparazioni pulizia e cosa vale però la parte in cui devi spingere forte sono due ore due ore e mezza anche tre capito poi ci sono locali che fanno anche otto ore di fila sì però tipo ci sono anche locali che è un'ora sì sì è un'ora e devi spingere fortissimo e in quel caso ecco ad esempio in quel caso lì l'organizzazione fa la differenza e anche la calma devi mantenere sempre la calma non devi mai farti vedere dal cliente in difficoltà anche se stai in difficoltà perché fondamentalmente magari stai preparando ad esempio un necroni e sono finita l'arance e fai in panico oppure ti è finito il ghiaccio lì in quel caso devi essere bravo poi secondo me anche a intrattenere un po' la situazione e non perché se lo trasmetti la tua difficoltà perdi poi fiducia da parte del cliente sembra strana come cosa però no no però trasmettere sicurezza o calma mette a proprio agio il cliente anche nel mezzo del disagio totale però se tu sei calmo e posato comunque i clienti lo sentono questa cosa cioè se ti si spacca una bottiglia nella ghiacciera nella vasca se sei rotta le fai la risata devi essere veloce a non tagliarti mentre pulisci altrimenti il sangue zampilla ovunque e devi subito riattivare la postazione perché se ti si rompe una bottiglia mentre stai a lavorare e trasmetti difficoltà al cliente già il cliente si scogliona e nello stesso tempo il tuo collega che è a fianco che è quello che poi dovrà mandare il lavoro per i prossimi 15 minuti se vede che tu sei in difficoltà lui in automatico va nel loop che ti guarda va in sbatti anche lui mentalmente e quindi si deconcentra poi lì devi essere bravo a non mettere un muro al lato e anzi essere pure di aiuto al tuo collega a rimettere subito a posto la situazione hai la voce radiofonica sai? si ti sento bene perché ti sento in cuffia e ti sento bene che dici Alex? va bene come voce? ho una voce molto calda ho una voce calda detto questo stiamo parlando già da 10 minuti però non mi hai detto chi sei e cosa fai stiamo parlando da 10 minuti perché mi sono un po' focalizzato da questa cosa perché ne parlavo e ne pensavo ci penso quasi tutti i giorni però vabbè niente io sono Emanuele Bruni faccio questo lavoro da un bel po' di tempo ho iniziato molto giovane nel 2001 ho iniziato ho iniziato a lavorare da Pischello e quant'anni hai scusa? io 37 pensavo avesse la mia età sembro più giovane perché l'alcol mi mantiene mi mette sotto spirito sei un bender e quindi sembro un po' più giovane però no in realtà ho 22 anni di lavoro non solo nel bar ho fatto anche io ho iniziato come cameriere in un locale veramente nella giungla lavoravo 7 su 7 prendevo 20 euro al giorno facevo 12 ore di lavoro al giorno avevo 14 anni 15 anni andavo in motorino facevo 25 chilometri per andare a lavorare dove sei? di Colleferro un paesino fuori Roma un paese di Massimo Smari sì anche lui è di là sì esatto sono di Colleferro iniziato così per gioco cioè anzi inizialmente perché mio padre mi ha fatto ti compro il motorino però te lo devi campare tu e quindi io per campare il motorino per pagarci l'assicurazione la benzina e in più ci ho preso gusto perché quando è vero che 20 euro al giorno non è niente però quando c'è 14 15 anni no è buono sono 140 euro a settimana che è tantissimo che al mese sono quasi 800 cioè nel 2001 era un milione e 600 mila vite per impischiavo i 14 anni sono tanti sono tanti quindi te compravi la scarpa che costava un po' di più il giacchettino le cose poi non uscivo mai quindi quei soldi praticamente non li spendevo mai e venivo sodomizzato dai miei superiori sono stato due anni dai 14 ai 16 anni sodomizzato dai capi sala che giustamente io a 14 anni l'unico posto che mi poteva prendere era questo ristorante disagiato per persone disagiate dopo due anni però ho fatto le ossa lavare per terra, spostare i tavoli facevo tutti i lavori più pesanti poi dopo da lì mi sono appassionato alla cucina perché nel ristorante a me piace molto rubare con gli occhi apprendo un lavoro rubando con gli occhi non studiando, guardando secondo me è la cosa migliore per quello che i ragazzi oggi invece vogliono aprire i libri penso che dopo che hanno aperto il libro vanno subito a lavorare questa è una delle cose che a me piace spesso vedere ragazzi che io non gli ho raccontato, ho spiegato niente poi li vedo mentre lavorano perché li riconosci in movimenti come i tuoi sì 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 quindi rubare con gli occhi e poi naturalmente ascoltare poi in generale prendere tutti i cinque sensi poi alla fine attivarli tutti e poi prendi un po' da quello un po' da quello un po' da quello e lo ritrasformi non è che lo copi lo fai a tua a tua forma a tua shape a tua forma capito in base anche al tuo fisico al tuo corpo e ai movimenti che puoi fare magari quello che puoi fare te non lo posso fare io però vedo che è figo quello che fai posso trasformarlo a mio piacimento in base alle mie capacità comunque niente poi dopo questo lungo traversata mi sono appassionato di di cucina ho iniziato a lavorare in cucina per altri due anni come aiuto cuoco perché mi piaceva creare fare poi io sono un periodo informatico cioè io ho studiato informatica tutt'altro dovrei creare applicazioni per i telefoni però non mi piaceva il lavoro d'ufficio quindi mi sono poi buttato dal mondo della ristorazione nel mondo del bar che poi fondamentalmente è quasi la stessa cosa solo che anziché stare chiuso dentro quattro mura sei su un palcoscenico che è il bancone bar quindi il tempo passava molto più velocemente e la creatività non era finita perché anzi si è spostata in un altro livello abbiamo 700 800 tipi di prodotti diversi puoi mescolarli reinventarli ricrearli oggi puoi fare di tutto all'epoca era anche quello potevi fare però va bene e poi niente poi mi sono tuffato in questo mondo infinito di bar di cocktail facendo la gavetta inizialmente nei locali estivi ho fatto due anni di stagione in una spiaggia dove un po' la rinnego però un po' ringrazio di aver fatto quei due anni in spiaggia servivo preparavo i caffè preparavo i cocktail li portavo in spiaggia facevo 24.000 passi al giorno morivo purtroppo non esistevano gli apple watch sì esatto almeno 24.000 perché erano 800 ombrelloni quindi tu immaginate l'unico bar e poi da lì il primo corso di bar perché sì è vero che fai gavetta però poi devi avere anche una base di conoscenza si è fatto mettere sulle giuste rotaie sì ho imparato che cos'erano le routine di costruzione dei cocktail perché i corsi sono molto importanti per darti queste basi ho imparato a conoscere la merceologia ho imparato a conoscere la parte manageriale un po' sai come è il drink cost come non è il drink cost quindi ho fatto diversi corsi corsi di erboristeria di liquoristica eccetera eccetera e poi per puro caso mi sono ritrovato a lavorare nel 2014 da freni e frizioni non ho detto che facevo già questo lavoro quindi mi hanno fatto fare una prova e a un certo punto mi dico sembra bravo sto ragazzo mettiti al banco di sabato sera e non mi hanno detto nulla quindi ho fatto il servizio come se nulla fosse facevo il barback inizialmente per quanto sia un cocktail bar freni comunque ha dei momenti cioè quella zona lì ha dei momenti in cui sei di una discoteca sì sì devi volare praticamente e quando io avendo fatto già la cavetta alle discoteche fondamentalmente quando lavori in questi cocktail bar high volume la maggior parte dei drink sono Long Island Mojito Moscow Mule cioè quindi i basic e Cristian mi fa che era all'epoca il bar manager nonché oggi proprietario mi fa senti ma perché non rimani qua da noi e da lì poi sono rimasto tre anni e mezzo quasi poi dopo da lì ho partecipato a diverse competition ne ho vinte qualcuna e oggi cosa fai? oggi dopo dopo tutto questo tempo non lavoro fondamentalmente più nei cocktail bar come operativo proprio cioè come a livello manuale ma mi occupo principalmente di consulenze start up formazione creo format per le aziende per pubblicizzare o per avvicinare i consumatori o gli addetti ai lavori organizzo eventi in generale e niente incontro gente faccio cose bevo faccio una cosa molto interessante che non so se chiamarla podcast o no però io la seguo si chiama The Prince Factory Meat Bartenders perché The Prince Factory volevo farlo dire a te è molto divertente la The Prince Factory nasce nel 2017 come un blog io essendo un grande appassionato di cucina naturalmente ho riportato la cucina nel mondo del bar e oltre questo lavorando nella provincia non avevo la possibilità nelle capacità economiche i locali che erano lì di potermi comprare alcuni tipi di prodotti quindi il liquore al caffè se io lo chiedevo mi diceva no costa troppo va bene ok prendo il caffè me lo macino tanto è una caffetteria mi creo tramite cottura sotto vuoto nei barattoli la bagnomaria il mio liquore di caffè oppure il mio pimento drum oppure altrimenti mi faccio un liquore di vaniglia o la vodka alla vaniglia quindi queste cose qua le ho riportate anche a Roma e da lì ho aiutato tanti a a creare questi concetti e però facendole avevi voglia di divulgare queste cose esatto quindi ho cominciato a pubblicarle sai ho fatto questo e soprattutto venendo dalla provincia mi piaceva fare foraging perché per me è consuetudine andare a fare i funghi andare a raccogliere gli asparagi andare a raccogliere il tarassaco ti posso chiedere cosa ti dava cioè perché avevi voglia di divulgare questa roba di condivisione semplicemente di condivisione perché vedevo tanti ragazzetti giovani o tanti altri colleghi che si stavano appassionando a queste cose e a me mi faceva piacere condividere un'esperienza che avevo fatto io che poteva essere giusta o che poteva essere sicuramente sbagliata però mettermi anche in gioco o far discutere gli altri su nuove ricette o magari altri consigli quindi questo engagement praticamente nel 2019 era riuscito ad arrivare anche a 49.000 letture di ogni articolo il blog sì il blog poi alla fine da blog è arrivato il covid nel 2019 20 e niente vedevo che tutti quanti in pratica stavano arrabbiati giustamente arriva il covid non puoi più lavorare c'è gente che aveva aperto locali da poco in che punto eri della tua carriera? ero nel punto in cui lavoravo sempre comunque per diversi brand in più stavo facendo una start up per un locale cioè nel senso ti stava andando bene in quel momento? sì sì stava andando bene era partito un progetto tra l'altro molto bello per un brand molto importante a livello internazionale dove dovevo fare 30 masterclass e 30 guest nel 2020 è arrivato il covid mi sono fermato da lì poi è successo qualcosa purtroppo di spiacere a casa per motivi di salute mio papà non è stato molto bene e quindi mi sono riavvicinato a casa da Roma mi sono ritrasferito a casa per passare del tempo insieme con lui e vivermelo un po' di più perché dopo quasi 10 anni che ho vissuto fuori non ho vissuto la mia famiglia quasi per niente perché questo lavoro ti dà tanto ma ti toglie tanto è un po' come il Tao da dove da una parte di data da una parte di toglie io questa cosa la dico spesso l'ho vissuta con mio nonno io me ne sono andato cioè me ne sono andato io ho fatto tutta l'infanzia andando sempre a Napoli per tutte le feste per tutte le state e cose varie e mi sono reso conto che da quando ho iniziato a fare questo mestiere ho tolto alla mia famiglia e praticamente gli ultimi 10 anni di vita di mio nonno non li ho proprio vissuti però te ne rendi conto troppo tardi per fortuna in questo caso mi hai gratto pure le parole scusa per fortuna in questo caso mio papà parlando di me sì sì per fortuna mi dispiace magari se non sei riuscito è passato tempo però comunque di queste cose te ne rendi conto troppo tardi sì te ne rendi troppo tardi o nel momento più critico e quindi io sono tornato a casa e lì pensando pensando poi è arrivato il covid mio papà non poteva avere contatti con altre persone perché essendo immunorepresso non poteva fare nulla e quindi ho cominciato a pensare poi aprivi i social c'erano tante dirette alcune molto belle alcune molto divertenti ma altre anche molto tristi e che anziché darti quello sprint di dire cavolo perché la speranza non deve mai morire cioè se si muore la speranza te crolli addosso tutto cioè sembra stupido dirlo o una frase già fatta però non è che può piovere per sempre quindi l'unico modo che potevamo fare o che io ho pensato di poter fare era di dare un qualcosa e sfruttare quel tempo per poter creare un qualcosa di futuro o per dare qualcosa in quel momento comunque ragazzi se non avete colto la citazione non può piovere per sempre fatevi una cultura ok? buon corvo e quindi niente praticamente vedevo tutte queste dirette di gente che parlava no perché dobbiamo andare in piazza dobbiamo ammazzare la gente dobbiamo fare cose ho detto io devo organizzare qualcosa che possa riportare il bar al divertimento perché? perché il bar è divertimento cioè praticamente i bartender che facevano le cose belle per coloro che andavano al bar per perdere le cose cattive stavano parlando di cose cattive allora ho detto l'unica cosa che possiamo fare a distanza che cos'è? arriva Natale periodo di Natale del 2020 dico che si può fare a Natale che rende la famiglia più unita? è la tombola quindi prendo due giorni prima del 24 di Natale scrivo su Facebook ragazzi voglio organizzare una tombola tra amici se vi fa piacere se qualche azienda vuole può partecipare dando qualche regalo e viene poi donato ai vincitori di questa tombola quindi tutti si domandavano come potevo organizzare un qualcosa di genere e il 24 di dicembre mi sono ritrovato in realtà 500 persone online che giocavano in tre giorni di organizzazione 500 persone su Zoom 500 sono tantissime sì online che giocavano a tombola e abbiamo raccolto quasi 48 mila euro di sponsor in quattro giorni di tombola ogni sponsor tantissimi brand anche molto importanti non ne vorrei citare però erano oltre 60 brand diversi aziende diverse che hanno collaborato insieme per fare questa cosa e si chiamava la tombola della bar industry poi da lì abbiamo fatto il carnevale della bar industry perché ancora stavamo sotto covid e abbiamo fatto mascherare oltre 150 bartender sparsi in tutto il mondo collegati su Zoom divisi a squadre che hanno giocato a tabù quindi c'era un capo squadra e hanno giocato a tabù con le frasi del mondo del bar e quello pure è stato divertentissimo poi abbiamo fatto il quiz eccetera eccetera da lì è diventato fondamentalmente una piattaforma di intrattenimento e poi si è evoluto tantissimo io poi il bar fondamentalmente l'ho lasciato stare nell'ultimo anno perché ho avuto tantissime opportunità diverse ho capito che cosa voleva dire anche un po' migliorare la mia qualità della vita perché grazie tra virgolette al covid ho iniziato a svegliarmi la mattina presto ad avere una routine differente proprio a livello biologico e mentale che mi ha portato poi a lasciare il mondo tra virgolette notturno sono stato fortunato ad avere anche la possibilità di lavorare con tantissime aziende e oggi vivo il giorno vivo la notte fino a mezzanotte a mezzanotte già sto a letto a dormire sembra strano come cosa infatti mi sono venuti i capelli bianchi infatti io in questi giorni in questi giorni ho lavorato a Zomarin dai capirai il primo giorno che sono arrivato ho fatto mail cose varie qui per la fiera e ho finito di fare quello che stavo facendo alle dieci meno un quarto e alle dieci meno un quarto i ragazzi in casa con me dormivano tutti non usciamo non fiamo niente mi ricordo che poi mi sono messo in letto fino alle undici e mezza sveglio no no è stato tutto un susseguirsi di situazioni diverse è stato guarda io devo tutto al bar devo tutto e penso che porterò per sempre come tutte le persone che ho conosciuto clienti non clienti ho fatto sposare gente cioè io conosco clienti che sono venuti da me che non si conoscevano signore e signora magari beh io mi dico signore e signora perché all'epoca avevano 22-23 anni e loro avevano 40 che praticamente avevano l'età mia che li ho fatti conoscere sono usciti insieme si sono rincontrati e oggi c'hanno i figli cioè è un pensiero che faccio spesso anch'io è una cosa assurda ho fatto tutto stradamore io ho visto nascere quella relazione adesso la incontro col passeggino si oppure un'altra cosa assurda è che vedevo i ragazzi con il passeggino quando ho iniziato venivano dei clienti con i passeggini e fino a due anni fa servivo i figli che avevano appena fatto magari 18 anni e gli facevi i drink tu padre come sta tutto a posto si tutto bene salutamolo ciao ciao è particolare devo veramente tanto e quello che do veramente tanto poi a questo lavoro sono i tanti amici e le relazioni che si creano la barindustria italiana penso che a differenza di quella internazionale c'ha quel qualcosa in più proprio molto di più l'italiano al mondo sa adattarsi quasi come un camaleonte e nello stesso tempo l'italiano è quello che fa più community anche se ogni tanto ci odiamo tra di noi e ci invidiamo un po' però c'è anche tanto di bello in questo perché si c'è una storia super interessante che un ragazzo che conosco mi ha raccontato di quando si è trasferito in Australia che nel locale dove si è trovato a lavorare a fine serata ognuno per i fatti suoi ed è stato lui il primo a portare questa cosa di a fine serata stiamo insieme beviamoci qualcosa insieme e da lì ha creato un gruppo che i manager che sono abituati in questo locale in Australia ad avere gente che è di passaggio si sono trovati per la prima volta ad avere un gruppo di persone coeso perché un italiano ha detto beviamoci una birra quando finiamo ma che poi il cosiddetto team building così a gioco è la cosa migliore perché crea il gruppo tra lo staff che se no entra a lavoro e se ne va e sembra come se timbili il cartellino e quindi a volte non daresti neanche il massimo durante i momenti di difficoltà faccio un seminario che si chiama proprio l'altra faccia della medaglia il quale parla proprio del lavoro di squadra del barman vincente perché per essere un barman vincente devi avere una squadra dietro se non i singoli muoiono di rollangolo da solo non puoi fare nulla tutti i più grandi bartender a livello internazionale italiani e tedeschi è quello che ti pare se non hanno una squadra dietro che lavora per loro non sono nessuno quindi fare gruppo in questo modo come spiego nella masterclass è molto molto importante oggi tocca a me domani tocca a te oggi dove non arrivo io puoi arrivare tu dove arrivi tu non arriverò io ma insieme si può fare è una cosa molto molto importante questa non hai finito di dirmi la Prince Factory ma che te dico la Prince Factory è una fucina di idee perché si chiama proprio in questo modo perché è la fabbrica del principe perché questo soprannome ormai me lo porto da un po' in realtà è il doppio cognome Emanuele Principi Bruni nato per gioco poi Antonio Parlapiano che io facevo sempre tardi andavo sempre tardi alle elezioni dal Jerry Thomas quindi sei principe da lì mi faceva ma che fai tu per principe vieni qua fai come cazzo te pare mi hai rotto i coglioni mettiti le sedute e non rompe il cazzo sempre così quindi mettevo la seduta da lì poi principe e principe mi hanno cominciato a chiamare così a Roma mi era appena trasferito poi tra l'altro nel 2014 e poi alla fine tutti a chiamarmi principe principe per sta cosa qua per Antonio Parlapiano perché è sempre un altro momento di condivisione da quello che vedo io sui social sì no 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 poi intervisti chiacchiere ah sul fatto della The Prince Factory sì scusami perché poi io mi perdo penso a un sacco di cose sono giorni pesanti sì abbastanza sono mesi pesanti perché sto sviluppando merdo di cose non so dove mettevano devo sdoppiarmi a volte lei poverina si assorbe sempre tutto grazie niente The Prince Factory oggi come dicevo prima si occupa di start up consulenze formazione del personale flussi lavorativi ha una sorta di piccolo e-commerce che fondamentalmente creo le magliette io tipo questa per regalarle poi ai colleghi perché non ne vendo manco una perché tanti colleghi non le compreranno mai le magliette le vogliono sempre regalo a me fa piacere poi regalarle perché sono buono e alla fine io ci rimetto sempre mille euro di magliette e le regalo ai amici però va bene così poi poi niente sono partiti alcuni tipi di progetti tra cui questa cosa che è partita in contemporanea poi con te sì nello stesso periodo perché io ho iniziato ad ottobre tu hai iniziato ad ottobre mentre non ci siamo parlati io lo stavo facendo anch'io quindi tu lo fai direttamente in casa inviti i tuoi ospiti a casa io invece li vado a trovare nelle loro case nei locali e si chiama The Prince Factory Meat Bartenders praticamente spiegano un po' il concetto del locale che cos'è che cosa non è parlano della loro storia a prescindere dagli inizi dagli albori alcuni anche dai persiani sono partiti fino ad arrivare ai giorni d'oggi e ci spiegano un po' la loro visione di bar siamo arrivati fino ad ora a oltre 78 78 interviste abbiamo girato 78 locali e dovremmo arrivare a 100 poi ne partirà un altro che sarà solo di 25 puntate di 25 appuntamenti che sarà completamente diverso parleremo di ristorazione andremo a trovare degli chef i quali utilizzeranno dei prodotti alcolici in versione food e sarà completamente perché in quest'altro è più per la miscelazione i bartender creano dei drink dei segnatur cocktail dei loro locali e qui a Roma Bar Show di cosa ti occupi? qui a Roma Bar Show in realtà ieri ho fatto il giudice per la Bruco Mescal la prima competition italiana tra l'altro un prodotto che io amo tantissimo e Anna Sofì l'European Ambassador è una carissima amica con tutto quello che concerne i personaggi che girano intorno a quel prodotto ma anche la storia in generale il mescal e il tequila mi piacciono da morire e poi oggi sono qua con te ho fatto delle piccole interviste live al volo mettendo in difficoltà i nostri colleghi con delle domande a bruciapelo poi faccio il giudice di gara alla Barbeck Game di Fernet a Fernet sì me ne ha parlato domani e poi ho organizzato la prima competition al mondo quanto sembra di cocktail a base di Red Bull Energy Drink Red Bull Sugar Free e Red Bull Red Edition e poi abbiamo naturalmente messo anche la cocktail competition di Low ABV Drink fatti con The Organics e Red Bull abbiamo raccolto oltre 90 ricette 90 ragazzi hanno partecipato però solo 24 rientrano in queste due categorie che sono 12 per gli High Bulm cocktail alcol free quindi senza alcol per Red Bull e poi abbiamo gli altri che sono invece l'OABV fatti con Organics questi ragazzi vengono a tutta Italia domani ci incontriamo tutti lì vedremo chi sarà nella pancia dello squadro esatto perché poi si sceglieranno soltanto tre finalisti per ogni categoria che andranno a fare la finale a Milano nella nella nel come che si dice negli uffici nella sede nella 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 madre delle sedi italiane di Red Bull i ragazzi si scontreranno con differenti prove che non posso dire in questo momento altrimenti le spoiler però saranno molto divertenti questa sede Ale non è quella lì dove fare le live blur vero? è dietro i navigli non è la sede dove fare le live blur no ok dietro i navigli bellissima tra l'altro io ci sono stato ho fatto già un sopralluogo naturalmente questa competition non l'ho organizzata tutta da solo ho avuto uno staff che mi ha dato una mano sia con le grafiche che con le parti video Daniele Gentile è stato diciamo il supervisor e colui che mi ha aiutato anche a a mettere a posto alcune cose della gara perché comunque Daniele Gentile che io ringrazio sempre il direttore quante cose deve fare Daniele Gentile penso che la prossima volta farà anche il viaggio nello spazio come è quello ti ricordi quel record se lancerà lui al posto di quella ah sì quello lì che sarà lasciato fuori dallo spazio no con Daniele è stato molto molto bello domani ci saranno questi ragazzi che arrivano tutta Italia speriamo bene sicuramente andrà bene e niente questi ragazzi vinceranno poi i due vincitori che ce ne saranno due per ogni categoria vinceranno una mega experience a scelta a scelta quindi possono andare o con o vedere la formula 1 andando nell'area VIP quindi andare nel ristorante stellato a mangiare vederti la gara sai di formula 1 o andare a vedere il moto GP sempre lì l'area VIP conosci tu dove andresti? sincero io mi vado a vedere Polignano a mare i lanci con i tuffi sei sul catamarano stai lì mangiata di pesce due giorni al mare ti vedi questi che si lanciano da lì Polignano a mare è una li hai già visti dal vivo? sì è bellissimo andrei lì perché fondamentalmente sono un appassionato sì di motori in generale però tra quelle preferirei Polignano a mare anche perché poi la vincita non è solo per colui che vince ma il vincitore può portare anche un'altra persona e quindi vai in due a farti questa experience magari sei fidanzato e nelle gare italiane vanno? tipo Monza Imola sì 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 in quelle italiane poi l'anno prossimo verrà sviluppata in un altro modo perché quest'anno volevamo vedere come potesse funzionare è andata abbastanza bene quindi l'anno prossimo la svilupperemo ancora meglio perché abbiamo avuto pochissimo tempo per farla siamo stati molto molto ristretti ma l'anno prossimo la faremo sicuramente ancora meglio forse anche sviluppata in più tappe in Italia fare nord centro nord centro sud e sud dove poi tutti questi vanno a fare la semifinalissima cioè la finalissima e si scontrano tutti a Roma Barceau in un unico posto sì che poi magari non sarà Roma Barceau magari sarà qualche altra parte sì 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 interessante allora vabbè ti rinnovo il mio invito per venire a registrare un episodio se vengo però la passata faccio il cocktail va bene promesso che faccio perché ancora sono bravo a fare i drink per fortuna va bene io faccio anche gli episodi dei drink il tempo che avevamo che avevamo oggi è finito intanto ti ringrazio grazie a te è stato un gran piacere sono riuscito a incastrarti finalmente ragazzi questo era un nuovo episodio del podcast del bartender da Roma Barceau insieme a Red Bull ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao